questo primo podcast che farà da introduzione sarà un po diverso dagli altri che seguiranno vorremmo che fosse come una luce che va ad illuminare l'inizio del nostro percorso insieme ci piacerebbe che iniziaste ad ascoltarci chiedendovi se in questo momento siete felici su dai chiedetevelo perché lo sapete vero che l'infelicità o una felicità insufficiente è una ragione più che valida per non accontentarsi dell'io che si è e per inoltrarsi in un viaggio alla scoperta o perché no reinvenzione di se stessi in fondo cos'è un io che si ferma prima di aver raggiunto la felicità probabilmente un io pigro un po demotivato o magari entrambe le cose beh se si tratta di pigrizia bando alle ciance ormai lo sappiamo tutti anche se a volte facciamo finta di dimenticare che modelli a basso impegno che minimizzano l'importanza della responsabilità e che escludono l'esposizione al rischio sono destinati a fallire è matematica anche se non sembra zero impegno più zero rischio uguale zero vittorio se invece il problema è la motivazione per fortuna ci siamo noi di creo a rinfrancarvi lo spirito e per motivarvi giusto un pochino iniziamo con leggervi qualche riga scritta da un tizio abbastanza famoso che la pensava così sentite sentite la nostra vita è un'opera d'arte che lo sappiamo o no che ci piaccia o no per viverla come esige l'arte della vita dobbiamo porci delle sfide difficili da contrastare a distanza ravvicinata dobbiamo scegliere obiettivi che siano almeno nel momento in cui ce li poniamo oltre la nostra portata e standard di eccellenza irritanti per il loro modo ostinato di stare ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o che avremmo pensato di avere la capacità di fare dobbiamo tentare l'impostibile e possiamo solo sperare senza poterci basare su previsioni certe di riuscire prima o poi con uno sforzo lungo e lancinante ad eguagliare quegli standard e a raggiungere quegli obiettivi dimostrandoci così all'altezza della sfida l'incertezza è l'habitat naturale della vita umana sebbene la speranza di sfuggire ad essa sia il motore delle attività umane sfuggire all'incertezza è un ingrediente fondamentale o almeno il tacito presupposto di qualsiasi immagine della felicità è per questo che una felicità autentica adeguata e totale sembra rimanere costantemente ad una certa distanza da noi come un orizzonte che come tutti gli orizzonti si allontana ogni volta che cerchiamo di avvicinarci ad esso ecco un concetto molto importante tra gli altri contenuti in queste parole è che l'incertezza è lo stato naturale delle cose della vita perché solo nell'assenza di certezza è compresa la possibilità di esplorare e di imbatterci nel viaggio in qualcosa che forse è migliore di quello che avevamo avuto fino in quel momento in fondo se ci pensate quando si tratta di felicità è quasi impossibile essere sia determinati che coerenti di solito infatti più si è determinati e più è difficile rimanere coerenti perché rimanere coerenti significherebbe dover escludere a prescindere tutto quello che non avevamo calcolato o previsto o progettato qualsiasi modello se perseguito a spese di tutti gli altri è destinato ad apparire sempre più dubbio a mano a mano che cresce il numero delle possibilità ignorate la felicità e la motivazione è possibile che arrivino quando invece che continuare ad andare avanti come un treno cediamo alla tentazione di essere incoerenti di essere liberi e magari piuttosto che andare avanti ci spostiamo di lato o facciamo una capriola all'indietro è vero che di solito le speranze sono difficili da riconoscere nelle realtà che da esse sedimentano ma è anche vero che qualsiasi cosa facciamo o non facciamo farà una differenza non possiamo evitarlo ma possiamo scegliere noi che tipo di differenza poter fare perché ricordatevelo siamo noi i padroni del nostro destino questo essere sentirsi padroni del proprio destino è quello che in management chiamano personalità proattiva una persona proattiva è quella che è relativamente libera rispetto alle situazioni specifiche e che attua un cambiamento nell'ambiente che identifica le opportunità e agisce su di esse che dimostra spirito d'iniziativa e che agisce ed insiste fino ad ottenere dei cambiamenti significativi in poche parole queste persone hanno quello che gli esperti chiamano locus of control interno cioè la convinzione di controllare gli eventi e le loro conseguenze una persona di questo tipo ha la tendenza ad attribuire alle proprie capacità i risultati positivi e allo stesso modo si ritiene responsabile dei propri fallimenti attribuendoli a delle mancanze personali questo al contrario di chi invece ha un locus of control esterno per cui tutto ciò che gli capita è causato dal destino dalla fortuna dagli altri proprio chi ha sviluppato il concetto di locus of control interno ed esterno ha poi verificato come forse già state immaginando dai che c'è una relazione diretta e positiva tra personalità proattiva e successo personale e di gruppo ovviamente se la persona ad esempio è parte di un team interessante scoprire che qualcosa di così personale come la personalità appunto scusate il gioco di parole è stata studiata ed indagata tanto a fondo e tanto a lungo da crearci addirittura dei modelli ma qual è poi la verità su cui dobbiamo concentrarci molto semplice avremmo successo nella misura in cui avremmo fatto succedere qualcosa niente di più niente di meno anzi qualcosa di più in realtà c'è sforziamoci affinché il nostro agire nasca da cose belle vi prego dalla passione dalla curiosità ad esempio perché se ci fate caso sempre più spesso la madre dello stimolo all'azione è la delusione ci accorgiamo delle cose ne diventiamo coscienti e consapevoli ci concentriamo su di esse e facciamo di esse il bersaglio di un'azione intenzionale solo quando qualcosa non va questo però non va bene non è salutare per la nostra mente e non è uno schema sostenibile nel lungo periodo agiamo perché vogliamo fare non perché dobbiamo rimediare per questo primo podcast è tutto ma restate sintonizzati perché è in arrivo il prossimo firmato creo